Mi devo misurare, mi devo rendere conto quanto del mio modo di fare calcio si può portare con produttività, cioè che non diventi un allenare se stesso, cioè che voglio fare il mio calcio a ogni costo e tiro fuori qualche punto in meno invece in più. Quindi è chiaro che la mia filosofia rimane la stessa, poi voglio capire nell'attuazione dove si può arrivare e quanto di questo si può fare e quanto va lasciato nelle mani dei singoli giocatori nel rispetto delle proprie caratteristiche. È un discorso di filosofia, è chiaro che se chiedi il mio parere ti direi vorrei vedere Pjanic e toccare 150 pallone a partita.